Sindaco, buongiorno. Posso farle la domanda? Perché no. Grazie. La Su, a pochi chilometri da qui, hanno fatto il funerale al Paese che lei amministra un centinaio di persone. Cosa risponde? Niente, che siamo in democrazia ed è corretto che ognuno manifesti le proprie idee. Questo è fuori discussione. Dall'altra, evidentemente, posso anche non condividere certe manifestazioni, semplicemente perché abbiamo punti di vista estremamente diversi. Loro credono che il Paese vada a morire e quindi hanno inscenato un funerale. Io sono convinto invece che prendendo un'altra strada il Paese possa invece non morire ma vivere. E quindi sono due diversissime punti di vista, entrambi legittimi perché siamo in democrazia, ma sicuramente diversissimi. Senti, posso chiederle come mai non ha pensato di avvisare i cittadini, i consiglieri, ma di fare un po' tutto sotto banco? Ma vede, è un'uscita un po' antica questa qui, detta da tanti, ma anche molti non la pensano così. Vede, tra Pesaro e Monbaroccio, tra Monbaroccio e Pesaro, in realtà, non c'è una riga scritta che impegni l'uno piuttosto che l'altro. Ovvero, si è iniziata una discussione. Nei momenti in cui io vado a raccontare ai cittadini qualcosa, devo anche avere qualcosa da raccontare. E se non avessi avuto nessun incontro con nessuno, parlerei soltanto di aria fritta. Quindi c'è stato un inizio di dialogo tra gli amministratori di due comunità, i quali hanno iniziato un percorso, ma non per scavalcare i cittadini, per preparare il terreno per poi trattarne con i cittadini, ma devo anche avere, diciamo, almeno, come dire, in materia per discutere. Se non avessi avuto un contatto con nessuno, non potrei parlare di niente. Ma resta il fatto, però, che i cittadini non l'hanno saputo attraverso il giornale? Beh, io credo che il giornale, come abbiamo anche detto, non ha voluto scavalcare nessuno. È stato un modo, d'altra parte lei mi insegna che i media, la stampa, i giornali, sono probabilmente il mezzo che consente di informare quanto prima e quanto meglio i cittadini. Se io avessi fatto, io per esempio, guardi, a luglio ho fatto quattro assemblee, quattro, una dietro l'altra, una i sei, il sette, l'otto e il nove di luglio, nei vari centri del comune. In questi centri io avrò, nelle quattro serate, forse ho parlato con 50-60 persone. Per cui non sempre l'assemblea è il modo migliore o quello che consente di parlare con la massa più ampia dei cittadini. La stampa invece la leggono sostanzialmente tutti, o perché acquistano il giornale o perché lo leggono al bar. Quindi è un primo momento, non è solo quello il momento, di momenti ce ne saranno tanti. Facciamo e faremo delle assemblee, assemblee pubbliche, interveremo noi, interverranno anche altri soggetti. Cioè, quello che noi vogliamo è che ci sia tutta la collettività che di queste cose deve parlare. Posso chiedere da quanto tempo è che con Matteo Ricci il sitaco di Pesaro ne state discutendo? L'ho già detto, quindi non è un segreto. Diciamo da fine luglio. È stato un primo incontro, tra l'altro non era stato organizzato per parlare di questo, ma di altre cose. E come capita spesso, ci possono essere occasioni anche estemporanee, in cui magari tra sindaci, parlando delle difficoltà dei comuni, non c'è occasione, qui io non parlo con altri sindaci, in cui si parla di problemi, di bilanci, di patto di stabilità, e può essere un'occasione magari non ricercata, nella quale si affrontano determinati argomenti. Poi, piano piano, magari si sviluppano, si cercano delle soluzioni. Voglio dire, non c'è... È stato lei che ha cercato Ricci o Ricci che ha cercato lei? Ma in realtà eravamo lì per lo stesso motivo, ovvero si parlava dell'unione di due unioni. Facciamo l'esempio, noi abbiamo l'unione del San Bartolo e del Foglia, ed eravamo in una riunione al Pian del Bruscolo con l'unione del Pian del Bruscolo, per verificare la possibilità, se tra i sindaci di queste due unioni c'era l'ipotesi, la possibilità di dialogare per fare qualcosa di più importante, di più grande. E in quell'occasione, quello era l'oggetto, si è poi parlato anche di questo, ma anche di altro. Quindi non è che ci fosse un appuntamento per... Cioè, tra persone seri gli argomenti si affrontano in modo serio. Naturalmente, voglio dire, se poi qualcuno si vuole leggere dietro un disegno, beh, tutti possono dire tutto, ma non è così. Per qualcuno il disegno è la carriera politica che lei ha messo? Non l'ho mai avuto, a differenza di altri io non l'ho mai avuta. Ci sono soggetti che da anni, da anni, da anni fanno quel tipo di attività, o a livello magari di piccolo paese. Io non l'ho mai avuto ambizione, neanche adesso le ho, e lo dico in tutte le occasioni, io ho finito questo mandato, rimetterò ad altri la voglia e il desiderio di fare politica. Io, certamente, ho una mia idea politica, ma non sono stato mai uomo di partito o di segreterie. L'ho fatto solo perché, essendo cittadino di Monbaroccio, mi sentivo che era il momento di fare qualcosa. Cerco di farlo nel modo migliore, e ritengo che, al di là dei detrattori, quindi li hanno tutti, io abbia fatto le cose con serietà e con serenità. A qualcuno che, invece, la politica la fa veramente di mestiere, questo può dare fastidio. Perché non Cartoceto, per esempio? Ma vede, con Cartoceto non è che abbiamo tantissimi rapporti, a parte, diciamo, la Polizia Municipale in convenzione. Abbiamo un segretario comunale, ma è un impiegato che semplicemente fa delle giornate da noi e delle altre a Cartoceto. Sono due mansioni distinte che non hanno alcuna commissione fra loro. Abbiamo la Polizia Municipale, punto. Qualche volta mi incontro con il comandante della Polizia Municipale. I contatti con Cartoceto, intendo come sindaco, sono abbastanza rari, non c'è neanche motivo. Non ci siamo mai cercati per parlare di fusione o di altre cose. Lui, tra l'altro, gravita molto sulla Valata del Metauro. Quindi noi siamo invece un pochino di più qua sulla Valle del Foglia. Ottimi rapporti, però non c'è stato mai né da parte sua né da parte mia un discorso di questo tipo. Se ne poteva anche trattare. Quello che io dico è che l'occasione con Pesaro e con quelli che sulla Valle del Metauro, perdono, del Foglia, si gravita di più, sono più frequenti per l'unione dei comuni, eccetera, eccetera. Per cui c'è più possibilità di dialogo. Tutto lì. Sul referendum qualcuno ha paura, soprattutto a Pesaro, che sia un referendum anti-Vichi? Ma io mi auguro di no per loro, perché io credo che qui si debba parlare pro-Mombaroccio. Del tipo qui, e cerchiamo di fare tutti, e sarebbe ora di farlo in modo sereno e serio, qui dobbiamo tutti quanti fare, tutte le varie liste civiche o ex-liste civiche, cercare di ragionare in termini cosa conviene a Pesaro, a Mombaroccio, non cosa conviene a Vichi. Vichi, l'ho già ripetuto mille volte, non ha e non vuole una carriera politica. Ha una carriera in questo momento amministrativa, perché devo amministrare un paese, e i risultati direi che sono buoni, malgrado che alcuni dicono il contrario, ma è un problema di quelli. Per il resto, non credo che sia contro Vichi. Probabilmente Vichi può avere scombussolato un anno fa, nelle ultime elezioni, un pochino i giochi, perché essendo rappresentante di una lista prettamente civica, cioè non sostenuta da nessunissimo partito, né di centro, né di destra, né di sinistra, forse ha scombussolato un pochino i giochi. Il sindaco uscente Massimo Moratori, che rappresentava la destra, sperava di essere riconfermato, e invece la sinistra spingeva verso un'altra lista civica. Noi eravamo gli unici che non avevamo degli sponsor, e quindi forse anche a sorpresa, questo personaggio non noto alle segreterie, è prevalso, è tutto lì. Si sente un po' uno contro tutti? No, per la verità no. Vede, anche perché non bastano un gruppo, anche rumoroso di persone, a farmi capire che il paese la può pensare come me o contro di me. Io mi pongo, mi sono sempre posto un problema, cioè quello di dire, fino a che faccio il sindaco, fino a che è una responsabilità di farlo in modo serio e in modo convinto. È chiaro che ci possono essere persone che, giustamente, nel loro diritto, possono pensarla diversamente da me, ma non ritengo di essere assediato, come qualche giornale ha scritto, poi l'ho smentito, perché avere anche persone che non la pensano come me, voglio dire, questa è la democrazia. Grazie. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.